Buongiorno al dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione, l'ipnosi di ICS vera e professionale con la V maiuscola ragazzi, vera e professionale, è importante dire ciò. Rispondo ad una signora che mi mette, mi paragona, paragona il metodo di ICS, l'ipnosi di ICS con le altre forme di ipnosi, conformista e commerciale di Milton Erickson, Brian Ways, Dave Hellman e chi più ne ha più ne metta, l'ipnosi conversazionale, oppure con l'ipnosi che sono ottime, ripeto, nessuno dice il contrario, perché sono partito da lì, prima di incrociare la dottoressa Brunini, Rina e il professor dottore Michelangelo Garai di Los Angeles Beverly Hills, oppure con l'ipnosi fuffa, l'ipnosi paura, l'ipnosi da spettacolo. Bene, il metodo di ICS, l'ipnosi di ICS vera e professionale, non ha nulla a che vedere con tutto ciò che si studia all'università, con tutto ciò che si sente in giro, con tutto ciò che è stato reclamizzato per tantissimi motivi che non sto qui a dirti, a spiegarti una delle caratteristiche che tu puoi utilizzare il metodo di ICS, l'ipnosi di ICS vera e professionale anche contro la volontà del tuo caro, è sempre a fin di bene, per cui se c'è un tuo caro che non vuole essere aiutato e tu non sai cosa fare, i guru non sanno cosa fare, bla bla bla, tu puoi utilizzare solo se e solo se non hai ottenuto risultati con altre discipline tradizionali alternativi, l'ipnosi di ICS, il metodo di ICS, che non ha nulla, ripeto, a che vedere né con la psicologia che si studia all'università, né anche con l'ipnosi che si studia all'università, ripeto, è un qualcosa di unico al mondo, io ho avuto il piacere e l'onore, e ho l'onore di far parte dell'associazione di ipnologi associati di Los Angeles, che conta medici, psicoterapeuti, psicologi, chi più ne ha più ne metta e anche persone non del settore sanitario che confermano ciò, ed il sottoscritto dal 2008 ad oggi ha su di sé, su centinaia e centinaia di persone nel mondo, perché sono il numero uno, l'esperto numero uno di ipnosi di ICS online nel mondo, vera e professionale, che può dirti dall'A alla Z che succede se utilizzi un audio mp3 di ICS, oppure se utilizzi le sessioni online di ipnosi di ICS con il dottor Claudio Saracino, che al momento però sono sospese per motivi di tempo, poi vediamo quando le riattiviamo. Premesso tutto ciò, quando sento qualche persona, anche esperta di psicologia oppure di medicina, oppure ignorante in materia, ma appassionata a queste materie ipnotiche, dire che ci sono effetti collaterali, bla bla bla, disturbi di personalità, bla bla bla, è perché loro parlano in base alla forma mentis, al lavaggio del cervello, a ciò che altri pastori li hanno inculcato, insinuato nella loro mente, ma il metodo di ICS, siccome non ha nulla a che vedere con tutto ciò che può provocare problemi, non ha nessun effetto collaterale, non ha a zero rischi, zero pericoli, zero, zero, zero. Aggiungo che come se non bastasse, ci sono anche le informazioni, il disclaimer, le avvertenze, dove tu se hai un dubbio, un problema, un dubbio sulla tua salute, devi comunque andare dal tuo medico di fiducia, perché nel sottoscritto, negli associati dell'associazione, i prolegi associati, anche se ci sono medici, psicoterapeuti, eccetera, eccetera, nessuno ti fa diagnosi, nessuno ti fa cure, nessuno ti fa terapie, ma ti aiuta insieme alle medicine che prendi, prescritte da qualche altro medico, con delle parole ad hoc ad arte, del sottoscritto e non solo, del grande professor dottore Michelangelo Garai e della dottoressa Rina Prunini, ad uscirtene alla velocità della luce dal tuo problema, senza, ripeto ancora una volta, nessun effetto collaterale, perché non si tratta di ipnosi, conformista e commerciale che tu studi a scuola, all'università o sui libri o con qualche associazione a Los Angeles o a New York o a Canicati che ti abbia inculcato ciò, per cui se tu hai questi dubbi, non ti approcciare al metodo DCS, non ti approcciare all'ipnosi DCS, non scaricarti nessun audio MP3 DCS che potrebbe, che può risolvere il tuo problema o quello del tuo carro, anche se non vuole il tuo aiuto, fai la tua vita, continua così, non ci sono problemi, ma qui ragazzi il sottoscritto non obbliga nessuno né a comprare, né a scaricarsi audio, né a seguirlo, niente, 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 la mia mission, la mia missione è quella di sdoganare il mio metodo DCS e poi se anche operatori della salute vogliono capire come funziona questo metodo e io siccome sono aperto di mente non ho nessuna invidia né reticenza, voglio trasmettere il mio metodo anche ad operatori della salute tipo psicologi, psicoterapeuti, medici di tutto il mondo, ripeto, perfetto, mi scrivete, 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 vediamo quando pubblicherò come Silvio Pellico le mie prigioni, pubblicherò le mie esperienze e il metodo DCS coniato dal sottoscritto e lo diffonderò a chi vuole veramente avere un altro strumento molto potente che ripeto ancora una volta non ha nulla a che vedere con l'ipnosi conformista e commerciale, ma che ti fa avere dei risultati incredibili. Poi per concludere io purtroppo ho il tempo contato, tra virgolette, i passi contati, le parole contate, i respiri contati, come credo anche te, per cui non posso rispondere soprattutto in questo periodo al telefono, non faccio consulenza né telefonica e neanche per iscritto. Io posso soltanto darti dei consigli gratis compatibilmente ai miei tempi e ai miei impegni, ci sono i miei collaboratori dell'associazione Ipronologi Associati a cui ti prego di rivolgerti, di scrivere, i quali in contatto con il sottoscritto magari ti daranno una risposta a ciò che cerchi, per cui su tutto il resto che cosa ho, che cosa non ho, come stanno le mie gomme, come sta il mio olio, devi andare sempre dal tuo medico ragazzi, sempre, 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 perché una cosa non esclude l'altra, va bene? Io non sono un soggetto che ti spingia a togliere di mezzo i farmaci, non sono il soggetto che ti dice che i farmaci fanno male, che i medici sono tutta una branca di ciarlatani, che non hai ottenuto risultati in tantissimi anni per colpa della medicina tradizionale, no, 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 devi comunque andare sempre dal tuo medico, anche se abbracci delle discipline alternative, perché il medico, se tu ti trovi a Parigi, a Hong Kong, a Milano, a Roma, a Los Angeles, ovunque tu ti trovi devi sempre, a Mosca, a Tokyo, devi sempre andare dal tuo medico di fiducia, perché lui l'unico responsabile della tua salute, e poi magari dire, ma dottore, lei ha qualcosa, in contrario ad utilizzare parole positive, create ad hoc, ad arte, trasparenti, comprensibili, però create in un modo particolare, come la combinazione di una cassaforte per eliminare il mio problema di ansia, panico, ictus, paralisi, chi più ne ha più ne metta, e il medico ti risponderà sì o no, è logico che sei ignorante in materia, non capisce nulla di ipnosi, perché su cento medici soltanto uno nel mondo conosce la parola ipnosi, bene documentati, approfondisci, vai su internet, non da strisce alla notizia o all'ipnosi fuffo da spettacolo, documentati, perché l'ipnosi vera e professionale è riconosciuta dall'Associazione Medica Mondiale come medicina alternativa nel 1958, ed è la chiesa con Papa Pio IX nel 1847, anche a te te lo dico, anche se tu sei un esperto di ipnosi, un professionista dell'ipnosi, blasonato, eccetera, eccetera, non dare nulla per scontato, non si finisce mai di imparare ragazzi, ok? Non bisogna essere invidiosi, anche se tutti nel mondo si mettessero a fare ipnosi, non si aiuterebbero tutte le persone che vivono su questo pianeta, però molte volte è trascurata il potere della parola e anche il metodo, perché ho scoperto, grazie alla mia esperienza dal 2008 ad oggi con la dottoressa Rina Brunini, il professore Garai, che sono degli artisti dell'ipnosi, ho scoperto delle cose incredibili che non sono trattate in nessun libro di ipnosi, non sono trattate in nessun corso di ipnosi conformista e commerciale, io ne ho fatti parecchi in tutto il mondo, per cui seguimi e capirai perché ti sto raccontando queste cose, ok? Fammi tutte le domande del caso, visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, visita la mia fanpage su Facebook ipnosi, ipnosi, ipnosi del dottor Claudio Saracino, iscriviti a questo canale YouTube, benessere ipnosi, soluzione di cese del dottor Claudio Saracino, a far share condividi con amici e parenti perché può essere quel quid, quella molla che gli può far cambiare la vita come è successo a me tanti anni fa, nel 2008, e seguimi anche su Instagram e Twitter, benessere ipnosi, soluzione di cese del dottor Claudio Saracino, alla prossima, un bacio, un abbraccio. Grazie.